Ho detto cambi palla puliti, se questo fa punto al tuo livello mi dispiace una vita reale non è così 0-2 È il vento Ci sono, ci sono, ci sono Vieni, vieni Meraviglia Macchioni 1-3 Non ho mai deciso di te Macchioni sta coppia Esatto, Macchioni il gabibbo 2-4 5 3-5 Che servono le gambe, in realtà è la detta giusta ma non la prende di gambe, è quello che la fa scendere presto La palla è dentro 3-6 Che culo cavolo Alberto tu non sei più in reti, lascia perdere 4-7 Buon salto 4-7 Buon salto 4-9 Buon salto Buon salto Buon salto Buon salto Buon salto qui è cortissima 5 e 10 5 e 11 tira sulla spagna no, devi usare tutte e due le gambe su quelli, non una vasta 6 e 12 alto il braccio, chiudila sul fondo del campo col polso 7 e 13 molto bene è cortissima, è cortissima bella, 7 e 14 da sotto o da sopra? da sopra ah ok fuori 7 e 15 oh, non ricominciamo con quella cazzo di spalla per piacere 7 e 15 8 e 16 ci la vedete ancora la spalla bravissimo 9 e 17 10 e 18 ma che non serve dargli il colpo di schiena bastava soltanto stare fermo a quel punto 10 e 19 teniti la ricezione lontana con le braccia 10 e 19 oh, la prendi qua la voglio che la prendi alta basta di lato 10 e 20 11 e 21 è più basso su quella cazzo di spalla ti alzi sempre che quando la palla va in centro 12 e 22 ha superato di molto l'asta questa 12 e 23 non tenere le mani sulle gambe che poi ci vai di schiena 13 e 24 giusto bella palla centro, centro, centro oh, il mio 13 e 25 è esattamente sul centro è esattamente sul centro questa palla puoi rivederla dal video proprio esatta al centro ha rispettato quello che hai chiamato se vuoi chiami aperta che sei questa cosa intelligente da fare 14 e 26 14 e 27 cerca di andarci a due braccia per allontanare quella spalla interna dalla rete eh, ma quello lì non lo puoi riuscire 15 e 28 cerca di lavorare sulla ricezione che è quella che vi fa fare il doppio e la fatica entra davanti a voi 15 e 29 ma il problema è la ricezione che vi state ricevendo incrociato in uno del quadrante dell'altro è quello che rende tutto un casino 15 e 30 perché abbassi il braccio quando potete tirare solo dritto sull'extra rotazione piano che sarebbe il punto della vita battuta 15 e 32 è dentro, sì sì, è troppo sull'altro è poco alta 16 e 32 16 e 33 bravo Giorla ancora si 17 e 34 eh no, scomma è buona no, invece no era fuorissimo era proprio fuori che ho posizionato in modo e maniera che se tu ti risoproni le braccia da lì è fuori 17 e 35 eh sì 18 e 36 però ci sta di ricevere non chiamai questa era fuori chiamai la palla attacca e fai punto cazzo te ne frega dopo che hai ricevuta 19 e 37 19 e 38 19 e 38 ultima battuta ultima battuta coppia di preparati che è dentro la sbaglia 20 e 40 cambio coppia non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è